Sono purtroppo molto serie le condizioni di uno dei due automobilisti rimasti coinvolti nel violentissimo incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 gennaio, tra Mucinasso e Ivaccari. Due auto, pare forse a causa di un sorpasso azzardato, si sono scontrate frontalmente. I due conducenti sono rimasti feriti. In particolare sono gravi le condizioni dell'uomo alla guida di una Fiat che viaggiava in direzione Piacenza, estratto dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Meno serie le ferite dell'altro guidatore al volante di una Toyota. Entrambi sono stati soccorsi dai mezzi del 118. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e anche per regolare il traffico. La strada è infatti stata chiusa per diverso tempo, con pesanti disagi alla circolazione, con lunghe codi in entrambi i sensi di marcia. Tra l'altro, tra le vetture in attesa, si è verificato un tamponamento con un ferito lieve. Grazie.